Allora questo vuole che io dica che siamo al Parco Talon in realtà è già buio stiamo tornando dal Parco Talon. Però siamo andati al Parco Talon. Perché dovevamo andare a San Luca e ci siamo persi dopo vi faccio vedere Allora adesso stiamo iniziando a salire verso San Luca. Andiamola, un po' dura Non c'ho dove andare. Non sono persa in 50 metri Ragazzi ci siamo persi. Non sappiamo dove sia la strada. Adesso facciamo questa strada e poi Vediamo dove ci porta. Un'avventura Eccola Ma è cadda giù. Io so che cadda giù Merda Sì sì, per fortuna non c'è la salita Finalmente E' dura E' molto dura E' dura Allora Allora non vi portiamo a San Luca Perché ci siamo persi Ma vi facciamo vedere una vista stupenda Ok Ok E poi arrivi lì Dopo c'è il Reno Che è bellissimo in quel punto E' azzurro E' un principe Non è andato In un bocino Ma riide parla si vede il doppio mento si vede il ora scendiamo vediamo dove arriviamo il gelato la funivia il gelato della funivia si fa il gelato la funivia la mattina mi asso alle 6 e vado a correre brava che sono una culona dopo dove faccio vedere vedere il panzone qua smette di mangiare le patatine si può vedere arrivi a quella casa che vedevamo da l'appunto che pelle ho vabbè la seriglia la macchina non ma vedele facciano carini con la mascherina amore ai tempi del covid adesso bisogna metterla sai no che ha scritto l'amore ai tempi del colera capo di legarsi amato tu mi vuoi far fare una brutta figura il video ma invece no la macchina Grazie a tutti. Ora è ora di tornare a casa. Ciao!